Musica Sabato 27 agosto, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa che apriamo con i titoli di Primo Piano Molise, il quotidiano molisano che apre con le politiche, si accende la sfida lunedì lotito in Molise, il patron della Lazio debutterà insieme ai candidati di Forza Italia, l'evento sarà anche banco di prova per la compattezza del centrodestra dopo le polemiche sui paracadutati, Lizza per la Camera, Alessandra Salvatore in calza accesa, è di Arcinazzo Romano, cosa può sapere di noi? E allora vediamo all'interno un articolo di riferimento, appuntamento con Scintille, lunedì arriva lotito in corsa per il Senato uninominale, il vulcanico patron della Lazio, alla presentazione dei candidati di Forza Italia, la prima della squadra azzurra sarà anche una prova sulla compattezza della coalizione dopo le polemiche per i seggi sicuri ceduti ai forestieri, farà una campagna elettorale mirata all'otito, questo trapela dallo staff non solo incontri pubblici e con i rappresentanti politici ma anche confronti one to one con esponenti della società civile molisana, a cui chiederà una mano per il voto del 25 settembre. Anche un'altra candidata al Parlamento, questa volta in quota PD, commenta in questo periodo di campagna elettorale, Rossella Gianfagna, che tiene il punto, la Costituzione ci difende, dice ricordiamoci che siamo comunità. Vediamo gli altri titoli di primo piano Molise che apre anche con il bollettino, nelle ultime 24 ore non ce l'ha fatta un 77enne ricoverato in rianimazione, sale, anche se di poco l'incidenza. Venafro, Santissimo Rosario, il Comitato, Toma e Florenzano ci hanno preso in giro mentre a Termoli l'ascensore è stato finalmente riparato, Maria Grazia può uscire di casa. E poi il ricordo di Stefano Castellitto su Paola Cerimele, il mondo della cultura, la piange, Castellitto ricorda l'ultimo incontro, era così felice. Ci siamo stretti forte, ancora su Paola Cerimele anche il ricordo di Maurizio d'Ottavio e ora insegna agli angeli a stare sul palcoscenico. Nei tagli alti, Guglionesi scoperta una serra di marijuana, arrestato un uomo di 50 anni, mentre a Disernia rende un inferno la vita della madre, spedito in comunità e libertà vigilata. A Sesto Campano, auto speronata dai carabinieri, i malviventi fuggono a piedi nelle campagne. Poi c'è la notizia di Sport, addio Serie C per il campo basso, l'ipotesi Serie D, il Consiglio di Stato boccia il ricorso, il debito andava pagato per intero. Mario Gesuè cerca l'ammissione in soprannumero in quarta serie, c'è l'ok del Sindaco per segnalare i lupi in FIGC tramite il bando. Vediamo adesso i quotidiani nazionali con i titoli del Corriere della Sera, prima del messaggero. Vediamo come affronta il tema dei rincari, gas alle stelle, un vertice dell'Unione Europea. I commercianti sono in difficoltà, bollette esposte in vetrina. Il piano del governo servono 20 miliardi. Bruxelles, intanto incontro straordinario dal Veneto alla Campania, l'idea di un giorno di lezione in meno alle superiori per risparmiare. Intanto Mosca brucia il metano destinato all'Europa. Ogni giorno in fumo sono diversi milioni di euro. La politica con Giorgia Meloni che dice se vinciamo i fratelli d'Italia, si afferma, il Colle non può che indicarmi. Poi la centropagina con Mr. Microsoft, l'asta più ricca della storia, un dipinto che è all'asta, appunto all'incanto la collezione di Paul Allen, vale un miliardo. Vediamo adesso La Repubblica, i titoli sulle spie russe, la rete di Adela, l'inchiesta appunto sull'agente di Putin, la donna infiltrata nella Nato era parte di un branco di 007 a febbraio, chiamò un capo dell'ex KGB, Salvini, commenta, non ho letto l'articolo, l'ambasciata di Mosca, attacca Repubblica, solidarietà, Daletta, Guerini e Calenda. Di Maio, ombre sulle elezioni, il nemico è già qui, la Lega sta con l'oro. Mappamondi, linea dura della Fed sull'inflazione, i mercati sono a picco per le notizie internazionali, ora Biden sferza la dottrina Trump, è semifascismo. Sul fronte giustizia mancano i magistrati, processo a rischio paralisi, l'analisi di Liana Miletta, e poi il commento, non sparate su quel giudice, mentre il caso, se il PD cavalca la beffa dei social, emergenza energia, gas, il governo chiede di spegnere i termosifoni, l'articolo di Amato, Greco e Matera. Vediamo adesso il messaggero, il quotidiano romano, niente debiti contro i rincari, le dichiarazioni di Mario Draghi, impennata del gas, ma Draghi respinge i partiti, questo governo non farà lo scostamento, per tagliare le bollette, punta agli extra profitti energetici, verso cic gratis e sgravi al 30%. Nel taglio di spalla, l'articolo di Angelo De Mattia, sui costi insostenibili, quali misure per salvare le imprese dal default, e la notizia anche sulla scuola, le novità, la svolta della didattica a distanza, sarà per tutti i malati, anche non di Covid, i presidi potranno autorizzare la didattica a distanza, per chi è affetto da patologie diverse. C'è spazio anche per lo sport, ieri l'anticipo della terza giornata di Serie A, la Turbo Lazio, a nienta l'Inter, 3 a 1, a segno Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro Sarri, può così sognare. Vediamo l'altro quotidiano, della capitale, il tempo, Draghi ha finito i soldi, questo è il titolo del quotidiano indipendente, il governo vuole intervenire, ma il decreto ancora non c'è, mancano le coperture, no allo scostamento di bilancio, si lavora per slegare il costo dell'elettricità, da quello del gas, danni ormai inevitabili, via a chiusure e licenziamenti, nell'artigianato e nel turismo. E poi anche sul tempo, la notizia della squadra biancoceleste, Lazio escevò all'Olimpico, battuta 3 a 1 l'Inter dell'ex Inzaghi. Vediamo adesso il manifesto, che è sempre sui rincari, in titolo a gas, sul fuoco, nuovo record del prezzo del gas, 339 euro è il megavattora, ma il governo dell'Unione Europea farà una riunione urgente, a metà settembre, mentre quell'italiano vuole evitare interventi drastici, toccheranno al prossimo, mentre Gazprom brucia ogni giorno, 10 milioni di dollari di gas inutilizzato, mentre sul fronte ucraina, straziati, Kiev convoca il nunzio, il ministro degli esseri di Zelensky esprime il disappunto del paese per le parole del Papa, il conflitto intorno anche alla centrale di Zaporizia, e Zaporizia è guerra psicologica. Il fatto quotidiano con Draghi, né pace né riscaldamento, nella cobertina vediamo, infreddoliti i vari Giorgia Miloni, Letta, Calenda, Berlusconi, Salvini e Conte, decreto senza soldi, extra deficit, no a Conte, Salvini vuole razionare il gas, la Fed, tassi alti, e c'è ancora da soffrire, mentre nei tagli alti, mezza SPD si ribella, trattare con Mosca, in Germania, in 40 si rivolgono a Schulz, dialogo e non invece armi, Letta intanto si prende in giro, campagna tipo social, poche parole e vuote, il latitante e l'ucciso, il capogabinetto di La Galla e i due zii imbarazzanti, l'articolo all'interno del quotidiano di Marco Travaglio, vediamo adesso il sole, 24 ore, Powell delude, borse al tappeto, questo il commento sulle banche centrali, la situazione attuale, con il presidente della Fed che conferma la linea dura contro l'inflazione, Milano cede il 2,5%, l'euro resta sotto la parità, lo spread tocca i 234 punti, per gli italiani, 5 mila miliardi di ricchezza finanziaria, lo studio della Fabbi, mentre al centro pagina si parla di produzione buona per quantità e qualità, produzione del vino, vendemmia salvata dalle ultime piogge, e poi sulle riforme per il PNRR, concorrenza oggi in vigore, scatta la proroga invece per le spiagge. Vediamo adesso lo sport con i titoli della Gazzetta dello Sport che apre proprio sull'anticipo di ieri sera tra Lazio e Inter, Inter che lezione all'Olimpico, decisivi i cambi, Inzaghi sbaglia, San Rino finisce 3-1 per la squadra romana con la Lazio gara in equilibrio, Luisa Alberto e Pedro entrano e segnano un errore, far uscire Danfris, Gagliardini male, Lukaku non c'è. Questo poi l'anticipo anche di quello che sarà questa sera, Juventus-Roma alle ore 18, brividi Juve, c'è Di Bala, ritorna allo Stadium, sia festa per tutti, il commento, ma Allegri deve svoltare. Mentre sul fronte Milan, Milan che occasione alle 20.45 a San Siro, arriva il Bologna, Leao deve dare subito un calcio al mercato, Pioli lo vedo sereno e per me resta a Milano. Mentre per le altre squadre impegnate nel campionato, c'è articolo sui Granata, il Toro sale sul tramponino, Juric con Vlasic nel motore. L'Udinese anche ha giocato ieri contro il Monza di Berlusconi, il Monza che è stato rimontato e ora vuole Bacayoko dal mercato, l'Udinese di Stroppa, intanto vince per 1-2, Berlusconi se la riprende con l'arbitro. E vediamo adesso gli appuntamenti previsti per quest'oggi sulla nostra rete alle ore 11, conto alla rovescia, poi camminando Molise alle 13, Musa TV alle 13.50, l'edizione del telegiornale alle 14, con l'edizione serale alle 19.30, questa sera alle 21 Paese Mio, 22.30 Teleconomia, 23, l'ultima edizione del TG News. E con questo è tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti l'augurio di un buon fine settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.